ciao a tutti e a tutte bentornati e bentornate sul mio canale se è la prima, 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 primissima volta che guardi uno dei miei video mi presento io sono vero wild a a a s m m r r e stai guardando una delle mie challenge ovvero 30 video in 30 giorni e questo video sarà della durata di 5-7 minuti e sarà dedicato, come avrai potuto capire, a la crema sulle mani quindi mettiti comodo e goditi questo bellissimo relax meritatissimo e questo è un po' di più e questo è un po' di più Sì 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 Questo suono divide sempre un po' il pubblico C'è chi lo ama e c'è chi lo odia profondamente A me piace un sacco Infatti lo propongo molto spesso sul canale Mi piace il suono proprio appiccicatico Adesso ci provo a mettere un po' Ehm ma come faccio ad aprirlo? Ehm ce l'ho fatta Un po' di olio Per farli scivolare un po' di più C'è ancora di più Fammi sapere nei commenti se a te questo suono ti piace Allora di C'è anche un po' di più 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 A presto grazie 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 per essere stati con me oggi e spero che tutti questi video vi stiano piacendo e adesso vi auguro una splendida 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 buonanone 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 Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, 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 sì Sì, sì, sì Sì